Con la nuova Serie 1, BMW rivoluziona il concetto di compatta sportiva all'insegna dell'agilità e della sportività, introducendo però al tempo stesso nuovi punti di riferimento in tema di spaziosità e versatilità. La nuova Serie 1 offre infatti molto più spazio, sia per i passeggeri che per i bagagli, il tutto senza modificare le dimensioni esterne della vettura. Trazione anteriore o integrale X-Drive, motori benzina e diesel con potenze comprese tra i 116 e 306 CV, si sposano con un nuovo design in linea con gli ultimi stilemi del marchio, a partire dalla nuova calandra tridimensionale. Le tecnologie di bordo rappresentano lo stato dell'arte in tema di connettività ed assistenza alla guida, ridefinendo nuovi standard di riferimento per la categoria. La nuova BMW Serie 1 arriverà nelle concessionarie da ottobre.